Musica Potenta pala ragazzi, qua Vax, sono Giugnato, sono Nassolo e sono qui a presentarvi il mio nuovo video E ragazzi, questo qua è un nuovo video speciale, perché oggi sono qui a presentarvi il mio primo Quale mio primo? Voglio saperlo subito Il mio primo pinpale di un giocatore Team of the Year, in questo caso quale? In questo caso ragazzi, oggi, o meglio, in questo caso sto utilizzando Neuer Team of the Year Quindi Neuer Blu, valutato 94, quindi pensate un po' che maggiata E ahimè, ho appena notato che Dante ha subito un'espulsione dall'ultima partita Quindi, cosa significa? Significa che dovrò comprarmi un altro Dante, poco veloce Perché appunto non ho tanto tempo, quindi ci si sente appena l'ho comprato Eccolo qua ragazzi, quindi ce l'abbiamo fatta Comunque vi volevo ricordare, prima di iniziare appunto di passare da FIFA Con gli stessi interessati a comprare del di FIFA Poi adesso faccio l'ultimo cambio e appunto, beh, rimetto giù si è il titolare Perché anche lui aveva preso un rosso, cioè sto tranciando le gambe E poi ragazzi, vi volevo ringraziare per tutti Mi piace messo un post di Facebook appunto relativi al pingpale Che avevo detto, se tipo raggiungiamo un tot di mi piace Avrei fatto il pingpale, poi il tot non l'abbia raggiunto Non l'ho risultato un sacco E a me va bene lo stesso E comunque ragazzi, questa qua è la squadra Gli diamo un attimo la forma dai Sempre per essere sicuri E poi ragazzi, vi volevo dire un'altra cosa Intanto io pingpalo Eh sì, pingpalo Tweet su Facebook, comunque le regole sono di solito Mi ho aggiunta una che è quella di invitarmi solo una volta E secondariamente, ehm, non fare melina Perché magari mi metto a uno come il giocatore della volta scorsa Che si è passato tutta la palla Comunque ragazzi, vi volevo dire una magicata Che appunto, io forse, stasera Farò quello e già metto Quello là Quello là contro il magicone gabbone Però le cose, diciamo, li dico a bassa voce Perché appunto non è ancora del tutto detto Deciso Noi speriamo Voi ragazzi vi chiederò un favorone Mi raccomando Fregate per me No, nel senso Auguratemi, buona fortuna Perché ne avrò assolutamente bisogno Comunque ragazzi Bandole, siamo in senso Ma andiamo a partire Usiamo subito partire Io accettro al prossimo invito del gruppo E andremo a giocare Vediamo chi ci inviterà Ovviamente io ho detto di Ah no, ho aggiunto un'altra Se avete già giocato contro di me Non dovete invitarmi E basta Quindi, questo qua è il mio sfidante E sfi Petrarca Questa non l'avevo mai fatta E mi sento stragasato Vediamo se l'abbiamo trovato il gruppo Ma si, Savage l'avevo già fatto Che palle Quindi dobbiamo entrare da un altro Meno male che io dico di non invitarmi Se avete già giocato contro di me Cianna e 4-4-4 Non l'abbiamo mai incontrato Quindi, diciamo, gioca Partita con la misa online Speriamo ovviamente che venga subito E lo invitiamo Se viene subito ragazzi È stata abbastanza veloce Questa ricerca del giocatore Ecco, anche perché Perché voi non avete detto Axel, taglia queste parti Tagliarle E appunto cerchiamo di tagliarle Che ci si senta appena questo arriva Venite tutti un secondo dopo Non potete nemmeno un secondo piano così Che io non debba rifare tutto il gruppo Ora non mi ricordo nemmeno quanto che ho giocato E non dovrò andare a vedere i messaggi Nel caso di sconfitta Comunque noi speriamo ovviamente di non perdere Questa è un'unico 4-3 bagatello Devo scrivere stop 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 E un'altra cosa devo fare Ah sì Devo andare in impostazioni Riprendiamo Non ci vedo No dai Ma che palle Me la sono tirata addosso al giocatore È iniziata malissimo Potevo andare già a fare gole C'è il Kinect Che fa fastidio Questo colpo di testa è nostro E Dante E ora si può ripartire alla grande rima E quindi è iniziata la partita Possiamo dirlo Gervinio Bente che in mezzo Colpo di testa Tarciandolo Ufff La tensione è alle stelle Perché come ho detto Ho anche finito i crediti Ehm Trapacomri ne aveva un milione E un tot L'altro giorno Gervinio Madonna La salsiccia Che gol sta per fare De Bruyne Rimette in mezzo C'è tante Ehi la Ehi la La mette in mezzo Gol easy Gol easy di Gervinio Gol easy di Gervinio Ragazzi Allora innanzitutto Io chiedo scusa Per aver fatto i gol Soprannominati in mille modi Perché appunto Nell'altro video L'ho visto come l'avevate chiamato Mille modi diversi Però comunque Sto scommettendo Io sto scommettendo Un giocatore Team of the year Ragazzi Il mio primo team of the year In questa partita Non voglio perderla Comunque mi chiedo scusa Magari mi faccia gol Ecco lo fa anche lui Trang Ho avuto un Un buco enorme Di Fortuna Benati ha Colpo di testa 1 a 1 Quindi non è servito Neanche tanto a farlo Come vedete Io sono una bestia Se non mi sembra Io prendo un marcello Di gol sui corner Nei video Bellissima parola De Bruin Ops Tira Tira tu Qualcuno tiri Dio santo Vai Oddio Giù si lei Giù si lei De Bruin De Bruin Ops Yes E c'è il gol 2 a 1 De Bruin Mamma mia com'è sudata Sta partita Madonna la salsicciosa E' troppo sudata E lo spintero Oggi non è alternico Ve lo assicuro E tu E tu Mamma mia Li frega tutti E' un magicone Magone Magone magicone Palla per Benteche Benteche No No Ancora parata Del suo portiere Oh L'avevo fregato Gervinio E tu E tu Ti numeri E tu La legnata E c'è il grandissimo Madonna che Lo sarò tirassi sul secondo palo 3 a 1 Boom E tu E poi ragazzi Questo match è molto importante No Niente No si ve lo dico Perché nel caso in cui io perdessi Neuer Posso ancora perderlo Però Non potrei più fare un Witcher match Con il Gabone stasera Si si fa stasera Perché appunto Non ho più un credito Puc Non va Segna Gervinio Luce No Madonna Che parata 4 a 1 Era chiusa De Bruyne Chiudiamola Andiamo a chiudere Felipe Felipe Non la chiuso Porca vacca Uuu Azz Andiamo a chiuderla Vai Hulk Chiudiamola Chiudiamola Benteche chiudila La chiusa Oddio Meno male 4 a 2 All'89 Tecnicamente Chiusa la partita No Non deve segnare adesso Ti prego Non facciamogliela fare Super Porca vacca 4 a 3 Meno male che lo Io ho detto che l'ho chiusa Dovevo stare zitto Porca miseria Oh 4 minuti Devono essere passati Dai Ma che stiamo scherzando Vai Bravo Così Oddio Sì Madonna Avevo paura che ripartisse Yes E vanno a vincere Primo De pink pale Nel team of the year Madonna E' stata Dura assai Come partita Adesso vi farò vedere le statistiche Poi vi saluterò Innanzitutto ragazzi Per favore Raggiungiamo i 1500 Mi piace E poi mi ero scordato di dirvi una cosa Siamo diventati 25.000 Maggi 25.000 Perché 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 Ho raggiunto 25.000 Iscritti Quindi Vi ringrazio Alla granderima Spero che appunto Questa È un sogno È un sogno Che spera che non finisca più E questa qua Comunque è la squadra Anche se l'avete già vista Che è appunto quella che ho utilizzato Nella squadra Da 150.000 In questo caso Va da un milione Qualcosa Da tutto appunto Ho utilizzato Noi Arti Ma O De Ia Comunque Questi qua Sono statistiche Se ci tiro io 15 Ci ti importa io Che precisione di estire a lui, non mi importa che precisione anche lui e quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e vi saluto, lasciate un bel mi piace, un bel commento commentate, commentate buona fortuna per i match che forse si giocherà stasera e comunque detto che adesso vi saluto e vi faccio vedere il prossimo video buona Grazie